Il sogno di avere Bruce Springsteen in Valtellina, che molti della Valtellina hanno, io non glielo voglio togliere. Ha organizzato in tutta Italia concerti di Bruce Springsteen, Lenny Kravitz, Ray Charles, ma anche spettacoli di Guns N' Roses, ACDC, Queen, Kiss, Frank Zappa, Deep Purple. Stiamo parlando del promoter Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts, pronto, grazie all'amicizia con Gigi Negri e Marco Quaroni, a dare vita ad una serie di eventi a Sondrio. In calendario d'ottobre concerti al Teatro Sociale, ma anche un festival al Parco Bartesaghi e momenti culturali tra la natura in Valgerola, ma anche al Parco dello Stelvio, in collaborazione con Ersa, Ferregione e Lombardia. Primo appuntamento da non perdere a giugno in Piazza Garibaldi con lo Street Food Track Festival. Questo concerto di Davide Vandesfros è il primo di una serie di concerti che faremo in questo bellissimo teatro, che è veramente una perla, è purtroppo un po' piccolo di capienza, però è una perla, magari usando anche questa sala dove abbiamo fatto la conferenza sample per delle piccole performance, ed è anche l'inizio di tante altre attività che vogliamo fare in Valtellina. Infatti ci sarà Street, poi l'attenzione sul Parco a Damallero e poi Valgerola e Parco dello Stelvio, grazie alla collaborazione con Ersa, Ferregione e Lombardia. Sì, Street è una delle nostre manifestazioni enogastronomiche, molto divertente, dove c'è musica molto bella, dove ci sono tutti questi food track, sono dei piccoli ristoratori su ruote, lo faremo 7-8-9 di giugno in questa bellissima piazza Garibaldi, giusto, di Sondrio. Poi in Valtellina, in Valgerola e al Parco dello Stelvio, all'interno di un'iniziativa che abbiamo creato come Slow Music, che è un movimento culturale che ho fondato insieme a tanti altri, Franco Mussida, Carlo Fettinelli, Stefano Bonagura e tanti altri, organizzeremo a luglio un paio di weekend, uno in Valgerola, uno al Parco dello Stelvio e uno in Val d'Intelvi, che non è Val d'Intellina, dove ci sarà musica di qualità, arte e altre cose in mezzo alla natura. Al Parco, a Damallero? Un posto molto bello, che mi è piaciuto molto, me l'hanno fatto vedere, c'è l'idea nell'estate del 2020 di lanciare un nuovo festival musicale, ma non solo, che attragga gente da tutta Europa. Una collaborazione che va nella direzione di offrire sempre di più dal punto di vista culturale e musicale al pubblico valtellinese. Sì, noi vorremmo proprio animare il comprensorio con eventi sempre più interessanti, la musica è sicuramente un tema importantissimo, vorremmo riempire di musica la nostra città.